Salve a tutti i gentilob sono Zexy ed è oggi in questo nuovissimo video di appunto delle bad words che ho visto che vi è piaciuto tantissimo l'ultimo episodio ma proprio tanto siccome è il terzo video più visualizzato del canale Grazie quindi cosa ho fatto perché io lo faccio solamente per le visual per i like quindi ho fatto subito ho fatto il secondo episodio cioè il terzo quarto o terzo boh non lo so comunque ho visto che appunto mi piace molto i minigames che faccio quindi continuerò a farli Sono contento che mi piace perché anch'io mi diverto tantissimo quindi cioè io li faccio un sacco spesso quindi mi piace Va bene perfetto allora No scherzavo Allora Poi sto migliorando le bad words perché faccio schifo cioè facevo schifo adesso un po' di meno però non sono il massimo Ok bene Prendiamo subito questo il diamante così così possiamo fare le trappole e mi potenzio un po' Bien Puoi vedere perché ho messo questo in pratica questi qua ho scoperto questi blocchi che ho scoperto lo sapevo già però Mi sono ricordato che Mi sono ricordato che Te pareva mi chiamano Ma Dimmi Ho già mangiato ho già mangiato Mamma mi fa un piacere Saluta YouTube Perché Perché sto recando Che cosa ciao Ma ciao Siamo due team siamo rimasti bene Oddio bene Oddio Oddio Appunto 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 Aspettate Vaffanculo Anazzo Mh muori Se No Sì No Allora Mi sa che vado a distruggere Mh Averì Abbiamo abbastanza da armare Mh Averì Sì 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 Corri, corri, corri. Cosa scopre? Deve rimettere la cosa. Ce l'ho dietro? Cazzo sono un intelligentone, ma... Ok, bene, adesso parlo da notte chiuse perché è buono, non so, non so, sono un po' sociale, scusate. Allora, spada. Che palle, nemmeno ho cominciato, te già la rompe il cavolo stanno. Sì, sì, inoltre non c'è la dinamite, che pippone. Vedi come scappa questa città. Oh mio Dio! 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 Ok, basta cazzate. 9 cento. ah ma ha già ammazzato un tizio complimenti a me to you to easy no oh dios steve mi mettono ansia eh eh sono morto mi spiagge via 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 e non mi fido di nessuno steve ma se lo vedo posso correre cioè posso si mettono la tetra per niente ah stai a fare una strada oh jesu cristo non sovo se noi no cagano tos bene vedi ron ron no cagano tos no cagano tos no cagano tos tutti giù per terra in un giro tondo casca il mondo casca la terra tutti giù per terra oh dios corri 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 giro giro tondo casca il morto tomando casca la terra nooo ha vinto no manca una persona oddio chi è sto grande è lui il killer no no nenni a tar nenni a tar nenni a tar nenni a tar ma perchè c'è un osso no vedi come finisce ora corri nooo dai ma perchè non hai ma che mira di merda hai brutto fluffy hd 07 nenni che palle vabbè non è cazzo oddio che bella è sta mappa mi piace sta mappa però la più bella è quella cioè quella dello spazio ma no quant'è bella quella spero di fare il marderla oppure qua cioè qua faccio sempre il marder però in effetti innocenza ecco per dirvi questa qua è la nonna partita dei marder che faccio ancora non è successo niente ok comunque è stato bravo quello che ha vinto prima perchè ha fatto tutti i fuori ma proprio perchè lui era uno steve c'erano molti steve quindi si mischiava un sacco infatti io scappavo ogni volta vedo uno steve bro ah ok ben 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 gg così mi da caro no non ff gg ma vaffanculo ma no no mi piace sto macchi ma perchè ci sono così tanti steve? io resto qua, magari qua non mi chiedono è lo steve perchè sono tutti steve, ho paura veramente i steve mi perseguiscono e forse c'è anche una ragione se mi perseguiscono perchè c'è oh cristo l'ho visto è quello steve, corri corri via che poi, mazza, quello steve, tutti so steve io non so nemmeno a farlo apposta ma ho capito quale è lo steve cioè se c'è una skin magari lo vuole pure uccide quello ma vedi che skin c'ha quello giro purri il titolo di questo video sarà steve mi vuole uccidere e non so nemmeno napoletano però vabbè batti, 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 batti bravo, bravo, batti cinque bravo, 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 si bravo trenta partite buone e sono di questi che ero diventato murder infatti alla fine dico vabbè ragazzi il video può finire qui perchè mi sono stufato che non divento mai murder infatti alla fine chiudo il video così però mentre editavo il video mi sono accorto di una cosa di una clip io stavo al telefono perchè sto al telefono? sono un cretino adesso vedrete bella ma se non so murder mo te prego te prego te prego te prego te prego ma morco due ero diventato murder ma io come stupido che mi ero messo al telefono nemmeno me ne so accorto vabbè rega l'outro lo faccio qua spero che il video vi sia piaciuto scusate se l'audio non si sentiva ma sto usando un programma di registrazione a un certo punto mi sembra pure essere minchiato il microfono quindi bella per voi quindi vi siete qui commentate e sbagliate e iscrivetevi e noi ci vediamo quindi ciao ciao